E così ci avviciniamo col cuore al Signore, è bello mentre siamo insieme e tu sei nella tua intimità, è facile che sei sola, sei solo o stai lì seduto, stai seduta, assorbiamo questi principi nella nostra vita che hanno il potere di cambiare la nostra vita, perché lo Spirito Santo è proprio dove siamo noi e basta un po' che si apre il nostro cuore e gli coglie l'occasione e opera nella nostra vita. Prima che chiudiamo, ho una piccola riflessione, mentre ascoltavo, ho visto, mi è arrivato un messaggio da TG.com che quando è stato incoronato il re, il re Carlo III, è un'espressione che mi ha parlato molto e le sue parole sono state queste, combatterò per seguire l'esempio di mia madre e servirò il regno. Queste parole mi hanno molto parlato, perché anche noi siamo servitori del regno di Dio. Ecco, queste espressioni ci aiutano a comprendere. Questo re Carlo III è stato appena intronato, però ha un'idea chiara di seguire il tracciato di un esempio e poi il regno. C'è stato un altro Carlo che ha fatto tradurre la Bibbia. La versione del re ha fatto questo in Inghilterra e si adopera. Noi siamo chiamati. E questo esempio mi ha parlato. Infatti la scrittura ci parla che noi dobbiamo servire il regno. Guardando l'esempio di coloro che ci hanno preceduti. Lo vogliamo guardare insieme, perché, vedi, questo ci parla molto. Quando noi siamo promossi, un credente che nasce di nuovo, è un promosso per il regno dei Cieli. Ora, questo esempio, questo re Carlo, è diventato re. È stato promosso da principe a re. Che, immediatamente, ha preso coscienza della situazione, dicendo Farò come l'esempio di mia mamma, ma servirò il regno. Ecco, questo dobbiamo pensare anche noi credenti. Siamo stati promossi attraverso la nuova nascita. E guardiamo anche noi l'esempio stasera. Leggiamo insieme un esempio speciale in Atti 19,8. Dice la parola del Signore, poi entrò nella sinagoga. E qui parlò con molta franchezza per tre mesi, esponendo con discorsi persuasivi le cose relative al regno di Dio. Noi, il re, se la vede per il regno d'Inghilterra, il regno unito, che fa parte di un'organizzazione che viene chiamata Commonwealth, che ci sono circa 56 stati in tutto il mondo. Ma noi siamo chiamati a proclamare, a servire il regno dei Cieli. Egli prendeva le profezie dell'Antico Testamento per mostrare le regole e l'autorità del regno di Dio. E' stata riservata, riversata su Gesù, che è stata riversata su Gesù, suo figlio, e che ora è alla destra come risultato di una delle profezie fatta da Davide. Come serve il re Carlo il re? Si va a mettere casa per casa? Segue le regole. Amministra le regole e impone le regole ai sudditi. Opera in questo modo. In Atti capitolo 2, dal verso 30 al verso 33, notiamo i credenti come servivano il regno, parlando. Egli dunque parla di Davide, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, prevede la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato di ciò che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Diciamo Cristo. Su questa base, su questa base, una espressione che vuol dire combatterò per seguire l'esempio di Gesù. Servirò il regno. Questo vuol dire servire il regno, noi cristiani. In Atti, capitolo 28, verso 23, c'è proprio un riferimento di come questo apostolo serve il regno. Riportando a ciò che ha detto Carlo III, servirò il regno. Noi, che siamo stati promossi, dobbiamo imparare a servire il regno. Attenzione, io non dico che noi dobbiamo servire il regno del re Carlo III. Dobbiamo servire il regno di Dio. Leggiamo insieme questo verso. Abbiamo degli esempi. Lui aveva avuto l'esempio della sua mamma. Noi abbiamo l'esempio degli apostoli, di Gesù Cristo e dei profeti. E avendogli fissato un giorno, vennero a lui nel suo alloggio in gran numero. Ed egli dalla mattina alla sera serviva il regno. Annunciava il regno. Rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè e per mezzo dei profeti riguardo a Gesù. Il re ha detto che vuole servire il regno. Qui notiamo, Paolo, che serve il regno dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina servirò il regno. Ecco questi esempi ci sono di aiuto. Il regno di Dio. Il metodo di Paolo era il metodo di Gesù. Il re vuole seguire il tracciato della sua mamma. Noi, per servire Dio, il regno di Dio, dobbiamo seguire il tracciato, l'esempio di Gesù Cristo, come lo seguiva Paolo. Il regno di Dio è il metodo di Paolo. Era il metodo di Gesù. Prima, Gesù faceva così, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Dal primo messaggio chiedeva, annunciava il regno di Dio. Prima e dopo la risurrezione. Nei 40 giorni tra la risurrezione e l'ascensione. Leggiamolo in Atti, capitolo 1, verso 3. Ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Serviamo il regno. Gesù lo faceva prima, all'inizio del suo ministero. La vedete, vi convertite perché il regno dei Cieli è vicino. dopo la risurrezione continuava a servire il regno, offrendo prove concrete della sua risurrezione, nell'arco dei 40 giorni, e gli apparve a tanti per dimostrare, per convincere che era veramente lui ed era risorto, e lo possiamo leggere in Primo Corinzi, 15, dal verso 5 al verso 8. Apparve a Pietro, poi ai dodici. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, al momento che scriveva la lettera. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, dice Paolo, come all'aborto. Parlando delle cose relative al regno di Dio, che designa la salvezza e la signoria di Cristo e di Dio nei nostri cuori. Questo esempio del re, Carlo III, deve essere un esempio per noi. Lui vuole servire il regno quello che gli ha lasciato sua mamma. Noi dobbiamo servire il regno che ci ha lasciato il Signore Gesù. Paolo dice in Primo Corrinzi 4,16. Abbiamo indicazioni chiare. Vi esorto dunque, siate miei imitatori. Noi credenti dobbiamo poi, a nostra volta, essere di esempio ad altri credenti in conformità a Cristo come specifica Paolo. Infatti, in Primo Corrinzi, 11,1, dice Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Combatterò per seguire l'esempio di mia madre. Noi siamo invitati a combattere per seguire l'esempio di Gesù Cristo, degli apostoli, dei profeti e di tutti i veri credenti che attraverso i secoli hanno servito il regno. È un impegno serio. Noi credenti dobbiamo essere di esempio ad altri credenti in conformità a Cristo come specifica Paolo. Siate miei imitatori ma lui dice io sto ancora imparando da Cristo e continuo a servire il regno come anch'io sono. Gesù che cosa dice in Luca capitolo 24 verso 47 c'è la chiave per servire il regno. Che cosa dobbiamo come si entra nel regno di Dio e cosa dobbiamo fare per servire il regno. Nel nome di Gesù Cristo dobbiamo predicare il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme. Ebbene paragoniamo questi due esempi quello del re Carlo Carlo III perché ci sono stati altri quello di Carlo III dice voglio seguire l'esempio di mia mamma per servire il regno. Bene il regno unito nell'organizzazione del del Commonwealth ci sono 56 stati indipendenti per il regno di Dio abbiamo tutte le nazioni nel capitolo 24 l'abbiamo appena letto verso 47 leggiamolo un'altra volta speriamo che sia un esempio per noi di servire il regno di Dio e che nel suo nome dobbiamo predicare il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme mentre il re Carlo si deve impegnare per i suoi 56 paesi del Commonwealth del quale lui ne è il capo il re e dice servirò il regno noi dobbiamo predicare il Vangelo a tutte le nazioni perché Gesù ha detto in Matteo 24 14 che questo Evangelo lo dobbiamo portare fino all'estremità della terra perché lui sta per ritornare noi dobbiamo fare in fretta questo servire il regno per accelerare il ritorno di Gesù Cristo leggiamo questa profezia questo Evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo e quello stiamo facendo anche questa sera affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti allora verrà la fine la nostra testimonianza è chiaro non è che dobbiamo testimoniare del re Carlo III noi dobbiamo portare la testimonianza del re Gesù che è il re dei re che è al di sopra del re Carlo III il re dei re è il signore dei signori che non è circoscritto a 56 nazioni oppure a due tre continenti egli è il re dei re il signore dei signori e noi siamo stati chiamati arruolati per servire nel regno di Dio signore aiutaci a dire questa sera le stesse parole che ha pronunciato il re Carlo III combatterò per seguire l'esempio noi non seguiremo l'esempio di sua mamma perché è di gran lungo inferiore all'esempio di Gesù perciò secondo l'esempio di Gesù degli apostoli e dei profeti e serviremo il regno di Dio per portare anime al signore non solo per portarle ma curare anche quelle che devono essere curate a questo siamo chiamati perciò questi esempi ci aiutano ad essere più seri nella chiamata che abbiamo ricevuto se tu sei nato di nuovo se sei nata di nuovo sei chiamata ad impegnarti per il regno combatterò per seguire l'esempio di Gesù servirò il regno voglia lo spirito santo farci prendere a cuore di voler servire essere utili per il regno di Dio che c'è tanto da fare vogliamo ringraziare il signore per questa bella serata preghiamo insieme signore grazie che ancora questa sera ci siamo intrattenuti intorno alla tua parola e per certo lo spirito santo ha preso qualche porzione e l'ha sfatta sbocciare davanti ai nostri cuori esempi che ci parlano perché sono esempi della tua parola grazie per ogni cosa benedici tutto il tuo popolo benedicici insieme e continua a restare con noi te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù Cristo Amen 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 Amen